Salve, io sono Alfio Fisicaro, sono di origine siciliana, quindi la mia lingua madre è dialetto siciliano. Hablo anche in spagnolo, lo che passa è che tengo un'influsione un pochino mexicana. Je parle aussi français et je ne peux plus parler en anglais. Sono un giovane di 63 anni, sono stato un fotografo per circa 40 anni e durante la pandemia ho chiuso questo ciclo e ne ho aperto un altro. Ho frequentato una scuola di recitazione che è l'Accademia Artisti di Roma e quest'anno, 2023, mi sono diplomato come attore. Quindi alla mia giovane età comincio un nuovo percorso di vita e una nuova avventura, se vogliamo chiamarla così. Quindi vediamo cosa ci regalerà la vita in qualche modo. Bene, vi faccio vedere i miei profili. Uno, due e tre. Grazie per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.